Buongiorno da OneHourTrading.it e benvenuti a questa nuova videoanalisi di portafogli ETF di Riccardo Zarfati. Operatività relativa a martedì 25 marzo fatta sulle candele Aikinashi giornaliere di un gruppo di ETF che andremo ad analizzare, relativa ovviamente alla chiusura del lunedì 24 marzo. Faccio scorrere velocemente le charte introduttive che conosciamo, magari qualcuno vorrà farsi un fermo immagine per ridare un'occhiata eventualmente agli strumenti da utilizzare o alle differenze tra le candele Aikinashi che utilizziamo per questa analisi e le normali candele giapponese. Andremo direttamente a vedere che cosa è successo ai nostri ETF, in generale è stata lunedì una giornata decisamente negativa, il mix di tensioni geopolitiche non sembra essersi per il momento risolto, parlo naturalmente della Crimea e parlo anche dell'episodio, per il momento solo un episodio, per fortuna avvenuto al confine tra la Turchia e la Siria e non ha aiutato certamente in giornata nel primo pomeriggio un indice PMI americano leggermente sotto le attese, ma comunque ben superiore ai 50 punti, per cui un dato non particolarmente preoccupante, ma questo è bastato per far sì che le borse europee chiudessero con ribassi nell'ordine dell'1,5%, compreso l'indice italiano e che i future americani, gli indici americani chiudessero con ribassi intorno all'1%. Detto questo, vediamo che cosa è successo sugli altri ETF che abbiamo come riferimento, partiamo dal Sud Africa, qui siamo fuori dal Sud Africa codice SAFRI, sempre in parentesi, il ticker degli ETF di riferimento e per il momento ci rimaniamo. Standard & Poor, SP500, avevamo stoppato la nostra operatività ribassista perché c'era stato questo fortissimo rialzo che era andato quasi a toccare i nuovi massimi, poi vedete che gli indici hanno di nuovo ritracciato, però non si è prodotta per il momento un segnale short da seguire, è per il momento una stabilizzazione per cui rimaniamo fuori. È evidente che siamo in una fase nervosa dei mercati che cominciano a sentire delle resistenze abbastanza importanti e non riescono a prendere un trend deciso né al rialzo verso nuovi massimi né al ribasso verso supporti di breve o di medio periodo, per cui si continua con questo nervoso saliscendi che non permette di fare al momento un'operatività che abbia un respiro un po' più lungo, per cui rimaniamo per il momento in attesa sull'SP500, come vedrete su altri mercati, in attesa che si formino dei segnali più convincenti, magari dai estremi più significativi. Siamo a rialzo sulla Russia, sappiamo che è un ETF pericoloso, codice RUS, per i motivi cui abbiamo accennato in apertura, siamo al momento long, questo segnale long è ancora valido nonostante queste due giornate di ribassi, ma non ancora sufficienti per stoppare la nostra operatività, quindi long ancora su Russia. Panafrica siamo long, per il momento ci rimaniamo a candela verde, India siamo long e ci rimaniamo perché si è prodotto un'altra candela verde con nuovi massimi relativi. Direi invece di, anche su FTS MIB rimaniamo long, si è prodotto una candela rossa, ma come vedete anche in questo caso non piena, per cui probabilmente un ritracciamento, la verità, forse un contributo alla verità, l'avremo domani con il formarsi di una nuova candela, quindi per il momento lasciamo questa nostra operatività a rialzo. Cina anche, lasciamo la nostra operatività al rialzo, vedete altra candela verde, lo stesso dicasi per il Brasile, che vedete anche superato le prime resistenze rilevanti, quelle della media mobile più lenta a 50 giorni, per cui questo è già un buon incremento sull'ETF Brasile, codice BRA. Stoppiamo anche l'operatività rialzista sul Nasdaq, ETF codice CSNDX, qua la candela tarda a formarsi, ogni tanto bisogna dargli una mano, vediamo se così ci aiuta a comprendere meglio il grafico, eccola qua. Quindi candela piena, rossa e questo qua ci fa interrompere la nostra operatività rialzista. Non entriamo per il momento a ribasso, è solamente la prima, come detto preferibile aspettare che avvenga qualcosa che sarà probabilmente più rilevante all'intorno degli estremi, che potrebbero essere in area 137 per questo ETF CSNDX. Anche Turchia, candela rossa, interrompiamo l'operatività rialzista, qui usciamo con un piccolo guadagno, con un pareggio in funzione dell'apertura di domani. Non succede ancora nulla sul Giappone, vedete altra candela di indecisione. Siamo fuori dal Eurostox e oggi questa candela ci conferma che per il momento abbiamo fatto bene a non seguire al rialzo questo primo segnale, avevo detto che era pericoloso a fronte appunto della chiusura venerdì ribassista dei future americani. E interrompiamo anche l'operatività rialzista sul DAX, codice XS1, vedete che va a formare una prima candela rossa in decisione dopo un'altra dei due sedute prima, per cui è evidente che magari andrà a fare anche nuovi massimi relativi domani, ma il trend non sembra essere così forte e così facile da seguire, per cui rimaniamo di nuovo in osservazione. Messico invece rimaniamo a rialzo, vedete Brasile e Messico sono le due realtà in questo momento che nel breve periodo stanno sicuramente performando meglio, siamo già attivi da quattro seduti e qui già con guadagni discreti su questi due ETF. Vi ricordo il ticker che qui era andato fuori quadro, ETF Messico, ticker XMEX. Passiamo alle materie prime agricole, oggi l'agricoltura sul quale abbiamo un segnale lungo, ormai da diverso tempo con questa lunga gamba rialzista, ha fatto una rapida escursione fin quasi ai supporti di medio periodo nelle grafiche giornaliere, poi è violentemente ritornato su, vedete ha prodotto una candela sin rossa ma ancora con code, per cui per il momento manteniamo la nostra posizione long. Naturalmente in questo caso un'altra candela rossa senza coda superiore ci farebbe uscire dalla posizione. Su gold siamo in attesa, per cui vedete i prezzi si stanno, si sono riportati sui supporti e è probabile che domani probabilmente vedremo un embrione di segnale al rialzo o al ribasso. Per il momento rimaniamo fuori. Metalli industriali la stessa cosa, c'è una candela verde ma nuovi minimi relativi, per cui per quanto ci riguarda prima di entrare aspettiamo che si formi una candela verde piena. Siamo invece fuori dal natural gas e per il momento ci rimaniamo, mentre siamo al rialzo sul petrolio già da due sedute e come vedete anche oggi si è prodotto un altro massimo relativo, candela verde senza coda e per cui decisamente rimaniamo nel trend. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordo della possibilità di aderire, per chi volesse ricevere segnali operativi sugli ETF, di aderire al portafoglio ETF settimanale con newsletter settimanale basato ovviamente su un paniere di ETF molto più ampio e diversificato. Ulteriori informazioni potete trovarle qua su Trend Online all'interno della sezione Premium o semplicemente digitando questo indirizzo che vedete qua in sovraimpressione. Vi ricordo i miei contatti per qualunque approfondimento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro di nuovo una buona giornata. A presto!